Quello della viabilità in Alta Erpina è un problema che con il passare del tempo prende sempre più i contorni di un dramma. Se la situazione era già difficile prima delle ultime nevicate, ora è addirittura catastrofica. Prendiamo il caso di Monteverde, uno dei comuni della provincia di Avellino, a confine con la Basilicata. Qui le strade di collegamento con il resto del mondo, potremmo dire, sono due. La strada provinciale 6 e la strada provinciale 155. Se sulla prima arteria provinciale la situazione più volte denunciata con vari servizi è tragica, sulla seconda, che collega il Comune con Lofantina, inizia ad essere drammatica per una frana degli ultimi giorni. Ai nostri microfoni il capogruppo di minoranza Antonio Pizza. Noi chiediamo a tutte le istituzioni, non soltanto al sindaco, alla provincia, alla regione, ma a ognuno per le proprie competenze di rassicurarci, di metterci in sicurezza, di garantirci un futuro. Perché restare bloccati e isolati significa restare bloccati e isolati. Da quanto tempo persiste questa situazione, consigliere Pizza? Oramai è una situazione che va avanti da tantissimi anni in questo modo, di abbandono da parte di tutti. E sembra che offendano pure le nostre intelligenze, promettendo di tanto in tanto interventi radicali. E quindi noi siamo in balia un po' di quelle che sono le negligenze degli altri, magari pure le nostre stesse negligenze. Comunque sono tantissimi anni che è così la strada e questo è evidente perché, se guardiamo bene, qua c'erano stati già segni di interventi pregressi che comunque si sono rimessi in moto. E portano, continuando così, ci porteranno in isolamento da qui a brevi giorni, quando l'acqua e lo scioglimento delle nevi faranno il resto. Altra situazione drammatica, la SP6? Lì, è preferibile non parlare perché stamattina l'abbiamo transitata. Per percorrere due chilometri occorre una buona mezz'oretta con una macchina abbastanza forte e pesante. Quindi è un problema che si fa ogni giorno, si aguisce ogni giorno di più.